Clamoroso errore di OneFootball raga e comunque sono Pietro e ben ritornati in questo nuovo video Oggi non è un video qualsiasi, infatti stamattina guardavo OneFootball, mi imbatto in una notizia No questa qua, le probabili informazioni della settima giornata Vado a vedere e succede una cosa clamorosa Stavo vedendo la formazione di Roma Frosinone del derby, non ve lo perdete domenica 1 ottobre alle 9 meno un quarto E mi imbatto in un errore, clamorosissimo Infatti non so se lo notate ma al posto di Frosinone c'è scritto Sassuolo Sassuolo Tra l'altro il Sassuolo gioca con il Monza Cioè la cosa che mi dà più fastidio è che praticamente come tutti ben sanno a Roi e questi due a Roi e Lirola giocavano nel Sassuolo E proprio per OneFootball ne ha messo proprio Sassuolo No Francesco Gelli non giocava Però mi sembra un po' un errore casuale Poi grazie che tu sei il nuovo Sassuolo E quei due, Marchiz Come si dice, Mazzitelli E Piramonti, no Piramonti no Però E Turatti che c'è l'altro in prestito triennale Pure l'allenatore di Francesco Questo errore almeno per ora non è stato cancellato Ah, il Papu Gomez è del Monza Il comunicato quando se la prendo Vabbè Comunque vi voglio dire un'altra cosa Vergogna di Inzaghi Perché vuoi mettere Sanchez e non Lautaro Vabbè che queste sono cose La formazione Come si dice Probabili Quindi puoi magari mettere Lautaro E niente L'agente di Copminers dice che Il Napoli lo ha cercato E la Juve no Invece la Juve la cerca L'ho doperato a ginocchi Poveri Secondo me De Kettler Non può giocare con noi Eh Monza, operazioni Caprari Confermato l'infortunio di Buongiorno Allegri che prende Ken La gente sulle Abù Va bene Abbiamo capito Quindi raga Fra poco uscirà un altro video E Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Se non l'avete ancora fatto E niente Va bene Ci vediamo raga Fra poco Con un prossimo video Purtroppo non ci sarà la mia voce Perché ci sarà una sorpresa Ma magari Vedo se posso fare un altro video domani Ma nel caso ci vediamo un altro giorno Con un prossimo video Ciao